Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6. Mercoledì 26 di aprile 2017, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali, le prime pagine delle testate nazionali. Poi vedremo alcuni dei servizi realizzati ieri dalla nostra redazione, in particolare quelli legati alla festa del 25 aprile, all'anniversario della liberazione e dunque alle cerimonie che si sono tenute in Abruzzo. Daremo spazio anche alla visita abruzzese del ministro Minniti. Ma andiamo a sfogliare intanto le prime pagine dei quotidiani locali, partendo dalle quattro edizioni del centro. E qui siamo sull'edizione Aquilana. Gran Sasso, stagione da dimenticare, solo 47 giorni di apertura degli impianti, calo pesante di presenze. Poi la fotonotizia che sarà in comune per le quattro edizioni del centro. Appello all'Abruzzo, aiutate Noemi per assisterla. I genitori di Guardia Grele hanno perso il lavoro. E poi di spalla leggiamo ad Avezzano in 40.000 alla fiera di Pietracquaria. A Sulmona, Marelli, la FIOM dice stop ai nuovi turni. In basso, inchiesta Pescara Porto, al vaglio degli investigatori, la mappa del rischio e sondazione sulla riviera. E poi al fratino piace l'Abruzzo. Aumentano sulle spiagge, nidi e uova dell'uccellino simbolo della costa. E poi ancora, oggi la presentazione, domenica l'anniversario, l'Aquila 50 anni fa lo scudetto. La polisportiva rugby festeggia il primo tricolore del 1967. E per il calcio invece, calcio di serie D, rosso-blu, spunta anche una cordata locale. Questo ovviamente per l'Aquila calcio. Siamo alla prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Ospedale scontro Movimento 5 Stelle ed Alfonso, dopo lo stop dell'ANAC, Marcozzi dice corretta la nostra segnalazione. Queste le parole della consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. E poi di spalla, San Salvo, Raid in centro, rubate 5 auto in una notte. A Lanciano, artista oscura i simboli fascisti sul teatro. A Ortona, che è prossima alle elezioni comunali, le idee bizzarre dei candidati, chi si muove in camper e chi si autoinvita a cena dagli elettori. Ciclismo a tollo, da scienso sia, giudica la Gran Fondo con gli Teatini. Andiamo ora alla prima pagina dell'edizione di Teramo, con l'appello dei commercianti. Salvate Brucchi, richiesta a tutte le forze politiche, col commissario città nel Baratro. Poi di spalla, l'emergenza, sosteniamo i Teramani in Venezuela. A Roseto, in via Manzoni, doppio senso e sosta selvaggia. E poi ancora i danni del terremoto, Cortino, un borgo fantasma, strade chiuse e macerie mai rimosse dopo le scosse. A Tortoretto, guerra delle torrette fra balneatori e comune. Ed ora l'edizione di Pescara, il titolo d'apertura, nuovo porto, i lavori a fine anno. A Pescara si parte con l'allungamento dei moli per deviare il fiume. E poi di spalla, più poliziotti in centro contro ladri e vandali, sempre a Pescara. Poi Manuela, terapia del risveglio per pazienti in coma. Per lo sport, Pescara, caso unico in Europa, sola squadra già retrocessa nei maggiori tornei continentali. E poi a Montesivano la burocrazia blocca le cure a una disabile. La prima pagina del messaggero Abruzzo, il titolo d'apertura ad Alfonso, telefonate nel mirino. Palazzo Chigi chiede al governatore notizie sull'ampliamento Don Pe, lui cita Ruffini. E nei colloqui su Megalò 3 spunta l'avvocato Milia. Stessi protagonisti dell'inchiesta Pescara-Porto. Sotto la testata Lanciano ha violentato la cognata, il PM vuole il processo a Pescara. Vigili urbani aggrediti da ambulanti senegalesi. A Teramo il presidente della squadra si spara al campo sportivo. Colpo di pistola alla tempia la vittima e l'ingegnere Dino Donatelli. In lutto il Locomotive Ripa, partecipante al campionato del centro sportivo italiano. E poi leggiamo di spalla, scala la facciata del teatro per coprire i fasci elittori. Il 25 aprile dell'artista Nicola Antonelli, azione di cultura antifascista. In taglio medio, intanto la fotonotizia a Pescara un naufragio inevitabile. La retrocessione anticipata a colpa di un team inadeguato. E poi il tar al comune, la moschea deve riaprire. Niente agibilità al luogo di culto, i giudici bocciano l'ordinanza della giunta. E poi in basso, maialetta, tutti sugli sci in queste giornate di ponte. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. S'allarga il caso delle gastroenteriti, malori alla casa di riposo terramana, tracce del virus anche negli ambienti dove si prepara il cibo. E poi la crisi al comune di Teramo, con due sfaccettature, nomine, BIM e fondazione. Non c'è trippa per brucchi. I negozianti, come abbiamo visto, chiedono di ritirare le dimissioni. Al centro, la fotonotizia. In cammino al giardino segreto, i walkers terramani festeggiano quattro anni. Poi di spalla, a Bellante, ingegnere suicida al campo sportivo. Ruzzo, via i lavori al depuratore di Tortoreto. E a Silvi, il golpe, inteso come la caduta dell'amministrazione comunale, è già costato 1,7 milioni di euro. Poi, ancora in basso, a Giulianova, Scuola e Caserma. Adesso si parte, pubblicati gli atti per individuare i tecnici. Manifestazioni, Carmine di Giandomenico torna con Teramo Comics, nel nome di Davide De Carolis. Poi c'è l'editoriale, il commento di Marcello Martelli, pensando al dopo brucchi, ovviamente tornando alla situazione di crisi che c'è a Palazzo di Città. Lasciamo i quotidiani abruzzesi per ora. Andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, che apre con Alitalia, che sarà, insomma, il titolo di apertura di gran parte dei quotidiani nazionali. Per Alitalia, l'ultimo prestito, poi la vendita a calenda, servirà solo a evitare gli aerei a terra. E poi c'è la fotonotizia, con il vertice delle donne delle G20, difende Papa Trump, fischi per Ivanka, immortalati in questa foto con la cancelliera Merkel. E poi ancora in basso, le parole di Mattarella per la festa della liberazione, cortei e tensioni al 25 aprile, basta rancori. La prima pagina di Repubblica, il governo su Alitalia, vendita o si chiude? Ma Renzi non ci sta, l'ex premier non escludere altre soluzioni. Poletti, in gioco 20.000 posti di lavoro. E poi la fotonotizia al centro, quell'uomo che sfida i terroristi con due sole parole, ti amo, il compagno dell'agente ucciso sugli Champs-Élysées. E poi ancora in basso, migranti, salvarli conta più dei sospetti, le accuse di Di Maio alle ONG. E poi ancora andiamo al fatto quotidiano, il titolo d'apertura, Consip contro i PM, Renzi si scelga un altro ministro. Sono le parole del ministro Orlando, il guardasigilli e le pressioni antimagistrati. E poi ancora, se qualcuno ha pensato che avrei utilizzato i poteri ispettivi come una clava, ha sbagliato, porta. La sfida di domenica, se si vince senza avere la battaglia elettorale, si fa la fine del socialista Hamon. E poi teleprimarie PD, Sky, confronto fra i tre candidati senza televoto. E poi ancora in taglio medio, l'Italia e i soci fuggono, ecco tutti i colpevoli, da Berlusconi a Matteo Agli Arabi. Chiederemo prestito ponte all'UE, ha detto il ministro Calenda. Possiamo andare avanti con la prima pagina del messaggero. All'Italia non si torna indietro, parla il ministro Calenda. Nessun salvataggio di Stato, non chiederemo soldi ai contribuenti. Vertice con Gubitosi e Laghi, prestito ponte per garantire i voli. Sei mesi, poi vendita o fallimento. E poi sotto la testata lo sport, ciclismo in lutto. Ciao capitano, oltre 5.000 per l'ultimo saluto a Michele Scarponi. Roma al bivio, la rabbia di Gieco, e Spalletti va a pranzo con il DS della Fiorentina. E poi in taglio medio, il 25 aprile, i cortei divisi, Mattarella, ricordi senza odio, il monito del capo dello Stato, tensioni a Roma e Milano. Rivoluzione Trump, pronto il maxitalio di tasse alle aziende. Giù dal 35% al 15% le imposte per le imprese. Russiagate, la Casa Bianca, non aiuta le indagini. Avanti con il tempo, cattiva compagnia, falli taglia, dicono no alla nazionalizzazione, ma pagheremo ancora. Fino a oggi abbiamo già dato 8 miliardi, bruciati 2 milioni al giorno. E poi la chefia della liberazione, caos e polemiche per il 25 aprile, pure gli ebrei contro i palestinesi. Avanti con la prima pagina di Libero, prendono il volo soltanto i nostri soldi, siamo stanchi di pagare, facciamo fallire all'Italia. Dopo che i lavoratori hanno bocciato il piano di salvataggio, la compagnia sarà commissariata. Lo Stato ci metterà minimo un miliardo per tenerla in vita, in cerca di compratori che non ci sono. E poi, miraggio grande coalizione, Renzi sogna di abbracciare Berlusconi. Avanti con la prima pagina della stampa, le parole del ministro del Rio, non salveremo l'Italia, sarà venduta al miglior offerente. Il ministro dice, all'estero altre compagnie hanno fatto meglio il loro lavoro. Intervista con il titolare delle infrastrutture, il governo pronto a nominare gubitosi e laghi commissari. E poi la riforma manifesto di Trump sulle tasse, il piano per abbassarle, nell'editoriale della stampa. E poi la fotonotizia, l'Italia che cambia, quanta fatica a fare il padre senza i congedi parentali. E poi la grande bugia, perdono, la grande fuga dal nido, i bimbi subito alla materna. Avanti con la prima pagina dell'unità, il delitto all'Italia. Leggiamo, il governo chiede un prestito all'Unione Europea per sei mesi di vita, dal caviale alla liquidazione, chi ha portato al collasso l'ex compagnia di bandiera. Poi ancora le parole del capo dello Stato, ricordare senza odio né rancore in occasione della festa della liberazione. Poi in basso, la legge elettorale vista dai tre candidati alle primarie del PD, Renzi, maggioritario, collegi e sogli alte antipartitini, orlando il 10% dei seggi in più all'alleanza che arriva prima. Emiliano, via i capilista bloccati e premio alla coalizione. Il giornale, non solo i piloti kamikaze, sindacati e politici, ecco chi sono i killer di Alitalia. Arriva il commissario, il governo chiede il prestito all'Unione Europea, poi svendita o liquidazione. Tutti pazzi, nella fotonotizia, tutti pazzi per Macron e Brigitte, l'amore tra prof e alunno, non è più storiella da film sexy. E poi ancora il manifesto, il titolo d'apertura, Belli Ciao, con il Duomo di Milano sullo sfondo. A Milano decine di migliaia di persone riempiono Piazza Duomo per celebrare la liberazione, insieme all'ampire diverse sfumature dell'antifascismo italiano, dal PD dipinto di blu alla sinistra colorata di rosso. In tanti anche al corteo romano di Porta San Paolo. Polemica e appuntamento separato per la brigata ebraica. Il Vestore 24 Ore, anche in questo caso, ovviamente, il caso all'Italia in primo piano. All'Italia, prestito ponte, un pool di commissari, il governo vuole gubitosi e laghi e cerca nuovi soci. L'avvenire, la verità, resta a galla. Le ONG salvano le vite. L'ONU, non confondere chi aiuta con chi sfrutta. Poi ancora, andiamo a vedere la prima pagina rapidamente del gazzettino. All'Italia, carburante per 20 giorni, necessari 500 milioni per la gestione ordinaria. Calenda, prestito per resistere 6 mesi, poi vendita o liquidazione. e il secolo XIX del Rio non salviamo all'Italia. Intervista al Ministro, venderemo la compagnia al miglior offerente. Lasciamo la rassegna delle prime pagine delle testate nazionali e torniamo alle testate locali andando a sfogliare le pagine del centro. Siamo a pagina 2 e 3 e l'argomento principale è l'anniversario, la festa della liberazione il 25 aprile in Abruzzo. Eroi per forza a 20 anni in nome della libertà. Cerimonia al sacrario della brigata Maiella di Tarantapenigna. Le parole del Ministro Minniti che è stato a Pescara e poi appunto nel Chietino costruirono il nostro futuro. Legnini, generazioni unite nel loro ricordo. E poi ancora le celebrazioni nel paese, corteie polemiche. Mattarella, ricordare senza odio né rancore. A Roma manifestazioni divise tra ampia brigata ebraica e da Carpi. Il Presidente ricorda i fratelli partiti dalla Palestina. E poi in giro per l'Abruzzo le varie cerimonie. A Lanciano, gesto d'artista per coprire i fasci del teatro. All'Aquila, in piazza, grandi reduci e movimenti. A Teramo, rosse e rosse sulla lapide davanti al municipio terremotato. A Pescara in campo per l'altra liberazione. Liberi di giocare a calcio il torneo che CGL di Pescara, Arci e Caritas di Ocesana hanno organizzato appunto per ieri al parco di Villa de Rizeis. Allora, anche noi ieri abbiamo seguito una cerimonia del 25 aprile a Pescara abbiamo in particolare raccolto una testimonianza di un partigiano. Vediamo. Anche Pescara ha celebrato la ricorrenza del 25 aprile con una cerimonia che si è tenuta in piazza Garibaldi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia anche tanti cittadini con molti reduci e partigiani fra cui Nicola Cappellucci, partigiano 93enne iscritto a Lampi che nel 1945 salvò decine di prigionieri stranieri di un campo di concentramento fuggiti da Sulmona e che lui ospitò e nascose nella sua casa di Caramanico Terme in provincia di Pescara dove riuscì a farli rifugiare in un pagliaio prima dell'arrivo dei tedeschi. Sì, non si può dimenticare specie quanti prigionieri ho salvato che ho mandato che ho trovato attraverso l'Armaiella tra questi un certo Simon Sabac di Alessandre del Getto il quale mi fece una lettera di ringraziamento a non finire dopo la guerra questi erano scappati da Sulmona maggiormente dal campo di concentramento di Sulmona e attraverso Caramanico venivano e io ho cercato di aiutarli anche ospitandole a casa? a casa li ho ospitati a casa li ho ospitati dopo non potendo più ospitare a casa che i tedeschi cominciavano a rinunciarli questi qua li portai nel pagliaio dal pagliaio e nella grotta uno di questi addirittura mi fece un autoritratto e gente veramente che hanno avuto bisogno di aiutare insomma ricordo tra i guai che abbiamo passato che quando sono venuto a rastrellarci i tedeschi che ammazzarono una famiglia intera al mio paese questi perché non lo so ho trovato dei prigionieri che non rimasti ancora qua vicino a casa sua fece molta neve e con la neve naturalmente questi uscirono per cercare non lo so se qualcuno ha fatto la spia o li hanno visti i tedeschi e li portarono ammazzare padre e madre e la ragazza di vent'anni che abitavano vicino a casa mia dopo di questo sono venuti da noi i tedeschi io e mio padre mi hanno sfuggito sotto un bagliaio questi con le baionette cercavano ma noi stavamo molto sotto e non riuscite a salvarvi siamo salvati abbiamo salvato molti i prigionieri riprendiamo sul centro inchiesta per scala porto rischio alluvione la perizia è in arrivo l'immobile della società dell'avvocato in un'area a pericolosità elevata l'accusa quella lettera aggira l'ostacolo la procura è pronta a nominare un esperto l'interpretazione della piantina della foce del pescare diventa decisiva per D'Alfonso Milia Dezio e gli altri e poi in basso la difesa dei cinque svela la strategia la lettera di Di Biase non è l'atto pubblico definitivo abuso è falso cadranno la storia abbiamo visto la fotonotizia nella prima pagina del centro appello di Andrea all'Abruzzo aiutatemi a curare Noemi il papà e la mamma di Guadagrele sono rimasti senza lavoro mentre la regione ha tagliato i fondi vivono con mille euro la mia battaglia dice il papà della piccola Noemi Andrea Sciarretta la mia battaglia vale per tutte le famiglie che assistono figli con malattie rare e poi ecco qui vediamo diverse diverse foto con Andrea con la moglie e poi insomma quelli che sono i macchinari che servono per tenere in vita la piccola Noemi avanti con la cronaca la cronaca dell'Abruzzo al fratino piace l'Abruzzo nidi e uova sono in aumento l'Uccellino si conferma il simbolo della costa come lupo e orso per le aree interne ma il 40% rimane a rischio le linee guida del VUF e oggi la festa ad Alba avanti con la cronaca di Pescara porto del futuro entro fine anno i lavori per deviare il fiume le parole dell'ex vice sindaco di Pescara del Vecchio mancano solo poche autorizzazioni per il via all'intervento intanto domani si firma il contratto per affidare la progettazione della diga la fontana artistica di piazza Lelaudi a secco da otto mesi la denuncia di Cerolini di Forza Italia il degrado e l'abbandono dell'area intervento della commissione e il caso finisce su striscia la petizione dei cittadini sempre a Pescara la polizia più controlli contro i vandali in centro la questora risponde all'appello di commercianti e residenti dopo l'ultimo ride per Pescara Roma il servizio d'ordine ha evitato tafferugli e contatti tra i tifosi in basso il ministro Minniti sicurezza e libertà il titolare dell'interno incontra i sindaci in provincia con le vostre ordinanze città più controllate avanti ancora 700 bambini in scena per i loro amichetti malati 6 scuole si immobilitano per realizzare la seconda casa famiglia dell'agve tre spettacoli a maggio al Circus per raccogliere i fondi mancano 250 mila euro e poi ancora un anno fa la morte dell'infermiera la storia di Manuela aiuterà i malati a svegliarsi dal coma dal dolore all'impegno la seconda vita dei genitori di Verna vogliamo realizzare un centro per il risveglio a popoli oggi la cerimonia una messa con il tenore Mazzocchetti e violinisti a Spoltore poi il grazie del ministro la Lorenzini scrive alla famiglia un'attività eccezionale in basso una lavagna speciale per la scuola Foscolo il dono della famiglia Sar Giacomo in memoria del manager Vittorio scomparso 5 anni fa e poi lo abbiamo già visto in precedenza ora vediamo un servizio più diffuso eccolo qui calcio e liberazione la sfida tra rifugiati premia la Caritas successo del torneo dell'integrazione a Villa dei Riseis Larci vorremmo una squadra di rifugiati in terza categoria e questi sono alcuni degli scatti di questa giornata di festa all'insegna dello sport al parco di Villa dei Riseis la pagina di Montesilvano riabilitazione interrotta mia figlia senza cure per un problema della burocrazia il dramma di una 29enne disabile affetta da sindrome rara la madre le terapie al centro Paolo VI bloccate da marzo e poi per la politica agliano Comardi e De Martinis si dimettano il capogruppo dei ribelli al comune di Montesilvano tuona contro i due assessori bisogna elevare la qualità dell'esecutivo e poi sempre a Montesilvano preoccupa l'insidamento a piano di sacco all'arme di Silli no al transito dei camion del centro Fanghi avanti ancora siamo a Spoltore ma è più attività sportiva senza un defibrillatore il Consiglio Comunale approva il regolamento che prevede la nomina di un responsabile della sicurezza negli impianti pubblici e nei campi di calcio a Francavilla porto turistico si lavora anche nei giorni di festa gru ed escavatori all'opera sotto la direzione di Roberto Brandi per accelerare i ritmi del cantiere e chiudere gli interventi in 300 giorni siamo nella zona Vestina a Penne al lavoro nei campi si ferisce gravemente con la moto Zappa incidente agricolo in Contrada Blanzano di Penne l'uomo di 50 anni è stato portato a Pescara con l'elisoccorso e a Manopello Open Day nella scuola calcio di Verratti venerdì l'incontro di bambini e famiglie con lo staff tecnico della società a Rabona e siamo alla pagina di Chieti stop al nuovo ospedale Marcozzi a D'Alfonso nessun raggiro la consigliera dei 5 Stelle dice mai parlato di gara con l'ANAC di Cantone il presidente sia chiaro sul project financing e poi per la politica Chieti e provincia domenica le primarie del PD ecco tutti i 18 candidati presentati in questo articolo in basso per la cronaca a San Salvo ride in pieno centro sparite 5 auto vetture rubate in corso Garibaldi e vicino allo stadio furti nelle case a Vasto ora le pagine di L'Aquila e Teramo prima di chiudere la prima parte di mattino 6 pagina aquilana il bilancio negativo per l'annata nera del Gran Sasso chiusa la stagione peggiore degli ultimi due decenni solo 47 giorni di apertura e un calo pesante delle presenze in basso compleanno in piazza per i 50 anni a Sulmone in 200 si sono incontrati sotto la statua di Ovidio con loro anche il comico Cirilli e poi a Teramo comune in bilico l'appello dei commercianti non fate cadere la giunta dalle associazioni no al commissario ci serve un interlocutore politico tutte le forze in consiglio anche quelle di opposizione devono fare la propria parte disponibili a collaborare ma anche a denunciare chi getterà la città nel baratro e poi in basso aiutiamo i terramani in Venezuela un italo-venezuelano dice il cibo scarseggia a Roseto via all'acquisto di medicinali grazie ad un libro allora ci fermiamo qui per la prima parte di mattino 6 abbiamo chiuso con le pagine della cronaca del centro riprenderemo dopo la pubblicità e dopo le previsioni del tempo con il messaggero e con la città fra poco buongiorno e ben ritrovati con la seconda parte di mattino 6 riprendiamo sfogliando il messaggero Abruzzo con la pagina dedicata alle celebrazioni del 25 aprile con la visita in Abruzzo del ministro Minniti che dice voi sindaci i migliori alleati per difendere le città il ministro a Pescara per dare le direttive ai primi cittadini contro gli attentati va sfruttata la conoscenza del territorio più intelligenza e controllo delle realtà locali stretto rapporto tra amministratori e forze di polizia poi 25 aprile medaglie per la liberazione ricordate le azioni della brigata Maiella il capo degli interni non si sottrae ai selfie con i tanti presenti alla cerimonia la scorta in tensione proprio in riferimento alla visita abruzzese del ministro Minniti ieri Minniti ha parlato appunto ai sindaci della provincia di Pescara dei comuni della provincia di Pescara lo ha fatto nella sala dei marmi allora vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione Non c'è democrazia senza sicurezza ma essere sicuri vuol dire anche essere liberi queste le parole pronunciate nel giorno del 25 aprile a Pescara dal ministro degli interni Marco Minniti che ha scelto proprio il capoluogo adriatico e la sala dei marmi della provincia per le celebrazioni della liberazione affiancato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso dal presidente della provincia Antonio Di Marco e dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini il ministro ha spiegato come il governo ponga massima attenzione al problema terrorismo nel paese siamo uno dei grandi paesi del mondo che ha sconfitto il terrorismo l'ha sconfitto tuttavia non perdendo se stesso l'ha sconfitto mettendo in campo tutti quanti gli strumenti di una democrazia questo è il cuore della questione combattere il terrorismo combattere il terrorismo da democrazia è una democrazia combattere il terrorismo mettendo in campo gli strumenti di una democrazia non perdendo se stesso questo è il valore della discussione che facciamo oggi perché i valori della democrazia sono i valori del 25 aprile quei valori sono oggi più che mai importanti più che mai sono strumenti per poter comprendere come una società possa avere legittimamente un futuro sono 72 anni ma qui i valori sono di straordinaria attualità vedete se questo è il quadro se abbiamo cioè una minaccia cosiddetta prevedibilità zero voi comprendete che c'è bisogno anche di avere una risposta nella capacità di prevenzione che sia all'altezza di prevedere quello che è imprevedibile e per fare questo naturalmente c'è bisogno di avere più intelligence l'intelligence italiana è una struttura che ha una capacità una sua forza in questi anni ha dimostrato di sapersi far valere ma se vogliamo prevedere l'imprevedibile l'unica cosa che si può fare è avere il controllo del territorio e qui viene il punto del rapporto strategico con il territorio guardate il decreto che è stato fatto sulla sicurezza urbana non è una misura d'emergenza esattamente l'opposto come quella sull'immigrazione io penso che sulla sicurezza e sulla immigrazione le cose che non funzionano sia quelle di incide sul terreno della emergenza l'emergenza è da cattivi consigli l'emergenza ti porta sempre a misurarti con una cosa che esplode e tu cerchi di tamponare su questi temi noi abbiamo bisogno invece di una visione di un progetto e l'idea del rapporto strategico con il territorio con la regione con la provincia con i sindaci io vedo qui tanti sindaci con le fasce tricolori mi fa molto piacere vedervi con le fasce tricolori perché appunto è quello che penso io siete un pezzo fondamentale delle istituzioni democratiche del nostro paese siamo alla cronaca di Pescara sul messaggero spunta la telefonata di Palazzo Chigi da Alfonso l'intervento decisivo per sbloccare il progetto della Dompe raccontato nelle carte del processo Megalo 3 nel fascicolo molti elementi utili per inquadrare i rapporti tra il presidente della regione Ruffini e l'avvocato Milina alcuni personaggi citati nelle intercettazioni a cominciare dal capo della segreteria al centro del caso Pescara a Porto e poi in basso leggiamo l'ordine all'autorità di Bacino risolvi tu questo problema devo dare risposta al capo di gabinetto di Renzi fra due ore difende Luciano e lo tiene per i puntini puntini le pressioni per aggirare i limiti del piano di difesa dalle alluvioni e poi ancora in basso geriatria sovraffollamento ma senza barelle in corridoio 20 pazienti in eccesso sistemati in altri reparti ponti festivi e malori notturni le cause avanti ancora la cronaca due agenti aggrediti dai senegalesi parapiglie sulla rivera nord per evitare il sequestro di orologi occhiali contraffatti presenti su una bancarella improvvisata in 30 hanno circondato la pattuglia della municipale scoppia il caos all'arrivo dei rinforzi di polizia e carabinieri un ambulante arrestato per lesioni e resistenza controlli serrati contro il mercato delle false griff e poi ancora chiamiamolo Flaiano Ponte Nuovo battezzato dai ragazzi di una scuola piace al sindaco la lettera della quarta dell'elementare intitolata allo scrittore poi ancora via Pisa la moschea riaperta dal Tar bocciata dai giudici l'ordinanza del comune che a dicembre ha revocato l'agibilità dei locali del centro culturale Anor riconosciuta la buona fede nelle comunicazioni siamo felici di poter continuare la nostra attività dice l'imam Benoara lo stabile utilizzato dalla comunità musulmana per le preghiere il caso sollevato dai vicini e da Forza Italia avanti con la pagina dell'Aquila l'ultimo giorno sulle piste si chiude una stagione nera solo una cinquantina le giornate attive contro le 100 dell'anno passato da oggi stoppa gli impianti con una neve che raggiunge ancora il mezzo metro dice Fulvio Giuliani non sarebbe stato economicamente vantaggioso tirare avanti fino al prossimo fine settimana poi ancora per la politica liste nel PD tutti i ricandidati tranne la triade sul fronte ovviamente del centro-sinistra poi sempre all'Aquila questa pagina che parla anche di storia e di cultura Ignazio Silone Gramsci nel tritacarne dei revisionisti gli anniversari dei due domani 27 aprile e il primo maggio si intrecciano con le loro odissee le tante pagine che hanno lasciato più di un segno rivoluzionario poi ancora in basso l'eredità contesa del segretario del partito comunista un interessante saggio dello scrittore abruzzese su tempo presente andiamo nella pagina della Marsica Fucino 50 milioni ma per gestirli è guerra la Confagricoltura contesta il masterplan e annuncia sorveglieremo come verranno utilizzati i fondi l'ex assessore regionale all'agricoltura Sciarretta afferma che si sarebbe dovuto affidare i lavori al consorzio di bonifica la polemica per la Marsica il braccino della regione è sempre corto chissà perché poi a Sulmona Marelli grigliate scioperi un grande conflitto interno carne alla brace dentro i cancelli per i 70 lavoratori che hanno accettato lo straordinario festivo e siamo alle pagine di Chieti e Provincia piste da sogno sulla maielletta e le spiagge sono già affollate un gruppo di suore e una coppia di sposi immortalati sulla neve nel lungo weekend i gestori felici risposta più che positiva all'inizio a rilento poi c'è stata la ripresa la meraviglia dei turisti mattina in quota e pomeriggio al mare foto a raffica sui social e poi aperti anche gli impianti di Passo Lanciano dopo le ultime precipitazioni attesa per il giro d'Italia e poi di spalla no dei sindacati al project nuovo ospedale senza pace di primio convoca il comitato di così ma nel rispetto delle leggi e poi a Lanciano la cronaca violenta e mette incinta la cognata chiesto il processo per un 48enne che era ospite del fratello ha approfittato della moglie di lui con abusi schiaffi e pugni la donna è stata costretta a ricorrere all'aborto terapeutico l'indagato avrebbe sfruttato il ritardo mentale della vittima le indagini dei carabinieri coordinate dal PM vecchi i fatti avvenuti a gennaio e a vasto la criminalità non è certo colpa dell'immigrazione parole forti quelle del presidente del tribunale Bruno Gian Giacomo al teatro Rossetti le pagine del Terramano 25 aprile le istituzioni al fianco dei giovani che non hanno lavoro il prefetto Patrizio e Topitti di Ampi questo è l'allarme per la democrazia il messaggio di Brucchi dall'Aventino abbraccio alla mia città e a tutti voi De Berardinis nell'ultimo intervento ha parlato del rischio armamenti e poi come abbiamo già letto l'appello dei commercianti a Brucchi ritira le dimissioni tutte le associazioni di categoria sottoscrivono il documento evitare il commissariamento e poi sfollati fracassa approva il piano della regione le case in legno non vanno bene meglio puntare sul patrimonio abitazioni invendute secondo l'assessore comunale di Terramo fracassa e poi il caso ospedale sulla costa la cherel tra Giulianova e Roseto scoppia il caso distretto due esponenti del PD di Rosetano dicono no al nosocomio di primo livello in cambio dell'ampliamento della struttura il sindaco di Girolamo si scusa con Mastro Mauro la cosa doveva restare segreta ma entrambi sono usciti allo scoperto l'unica replica a De Luca quando parla di me si sciacqui la bocca possiamo lasciare le pagine della cronaca del messaggero Abruzzo andiamo a sfogliare le pagine della città iniziamo da pagina 3 con il caso della casa di riposo i malori alla casa di riposo tracce di virus anche negli spazi della cucina nelle analisi dei tamponi raccolti dalla ASL l'IZS trova la conferma della presenza del norovirus una quarantina di anziani lo scorso 7 marzo ospiti della De Benedictis furono ricoverati vengono ricoverati in infermeria e in ospedale per gastroenterite e poi lo sviluppo delle indagini si cerca di capire se a scatenare l'epidemia sia stata una fornitura di pesce o se il virus fosse già negli ambienti della preparazione del cibo degli ospiti avanti avanti i commercianti sindaco ritira le dimissioni bacchettate ai dissidenti di maggioranza per il rischio di 15 mesi di commissariamento BIM e fondazione non c'è trippa per Brucchi i giochi delle nomine sono fatti da domani a martedì si completano i vertici delle due istituzioni per uscire dalla crisi il sindaco di Teramo non può rimpastare la giunta e utilizzare le due nomine esterne avanti ancora di Gian Domenico torna a Teramo Comics dopo il caso di Teramo Heroes il fumettista sarà protagonista della fiera anticipata da una mostra per Davide De Carolis protagonisti fumettisti e vignettisti di fama come di Gian Domenico Forattini Trono e Palumbo avanti ancora con Teramo Cammina i Walkers fanno festa al Giardino Segreto quarto anniversario per il gruppo fondato dal dottor Sinigaglia che ha fatto scuola in tutta la provincia lunedì il gruppo prenderà parte alla storica manifestazione della maratonina con una maglietta della Polizia di Stato per mandare un messaggio contro la violenza sulle donne siamo ora in provincia in particolare a Tortoreto via ai lavori al depuratore di Tortoreto l'intervento da 5 milioni di euro dovrebbe iniziare entro il mese di maggio la struttura realizzata in due fasi dovrebbe coprire 62 mila utenze tra Tortoreto e Giulianova Nord in vista delle elezioni comunali sempre a Tortoreto centrodestra nel caos e in cerca di un nome capace di unire tutti a Giulianova scuole e caserma qualcosa si muove pubblicata la determina per individuare progettisti e direttore dei lavori per adeguare due scuole che non avranno il coefficiente massimo si spenderà più che per la caserma e poi in basso anche in questo caso si parla di ospedale della costa il progetto Giuliese era condiviso anche da Roseto il comune risponde a De Luca farebbe bene ad informarsi meglio avanti con la pagina di Silvi Silvi che appunto da sabato scorso è senza sindaco il golpe già costato 1,7 milioni di euro con la caduta di Comignani a rischio i fondi promessi dalla regione per sistemare il lungomare dovrà affrontare il commissario dovrà affrontare non solo la stagione estiva ma anche i problemi della pista ciclabile delle barriere e del villaggio adesso proseguiamo con la pagina dello sport si parla ovviamente di Lega Pro e di Teramo il Sud Tirol spegne i sogni di rimonta la vittoria degli altoatesini sul campo del Parma potrebbe vanificare la rincorsa del Diavolo ora destinato ai play-out il Teramo domenico pomeriggio riceverà la visita del Parma che è in lotta per il secondo posto ma sono le sfide incrociate a lasciare poche speranze alla squadra bianco-rossa nell'ultimo turno del campionato sarà il Mantua ad affrontare la squadra di Colombo ovvero proprio il Sud Tirol ormai al sicuro e ci sono anche le parole del difensore Teramano Caidi in un altro campionato con due vittorie potevamo salvarci sappiamo che il Sud Tirol ormai è salvo noi però abbiamo l'obbligo di battere il Parma e provarci fino alla fine e allora andiamo ad ascoltare proprio le parole pronunciate dal difensore Teramano Caidi ma io penso che dobbiamo concentrarci a a queste due partite pensare pensare a noi anche se purtroppo non basta pensare a noi perché come è inutile che come sapete anche voi il Modena con un punto è salvo quindi e il Sud Tirol la partita dopo col Mantua è già salvo e quindi purtroppo lottiamo contro una malattia che c'è in Italia quindi se questo campionato eravamo in Inghilterra qualche parte potevi dire se fai due vittorie probabilmente ti salvi invece non è così e quindi il Teram prima di tutto deve pensare a battere il Parma perché stiamo parlando di una squadra seconda in classifica che vive un momento di difficoltà ma comunque con dei giocatori di serie B e quindi sarà sicuramente stimolante e bello comunque provare a battere una squadra di quel calibro poi penseremo alle pari successivi non è che io non voglio assolutamente mettere in dubbio la professionalità dei 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 giocatori di Mantua e Modena perché ci mancherebbe ho tutto il rispetto nei loro confronti quando vado avanti faccio i danni ho fatto domenica ho avuto anche una bella opportunità alla fine che magari se c'era un attaccante la stoppava con la palla c'è un po' di rammarico però non ci penso proprio gli attaccanti nostri sanno bene fare il loro lavoro e purtroppo è un periodo che si fa fatica però non non dobbiamo assolutamente mollare mollare niente noi comunque come ripeto dobbiamo pensare a noi perché è un comunque momento delicato del campionato e comunque arrivare a un eventuale play out dopo due belle vittorie sarebbe comunque stimolante arrivare con comunque piazzati meglio è una cosa importante comunque non ci voglio ancora pensare perché bisogna pensare veramente giorno dopo giorno quasi perché è importante lavorare e vincere domenica sempre sulla città lo spazio CSI la ginnastica artistica assegna i titoli regionali al Palas Capriano weekend ricco di acrobazie per oltre 120 atleti che si sono sfidati a Teramo nelle giornate di sabato e domenica le finali nazionali all'orizzonte i vincitori di titoli regionali andranno alle finali di Lignano sabbia d'oro dal 5 al 12 giugno e poi ancora il torneo spiagge d'Abruzzo cap a Roseto vincono lo sport e il fair play gli organizzatori premiano tutte le squade arrivate alle semifinali nei tornei giovanissimi ed esordienti a 11 il patron Cerasi vedere il sorriso sul volto dei ragazzi ci dà la forza di andare avanti e di preparare l'edizione del prossimo anno adesso andiamo sulle pagine dello sport del centro ripartiamo dalla serie A e dai record negativo del Pescara retrocesso matematicamente in serie B retrocesso dunque a 5 turni dalla fine il Pescara è un caso unico in Europa e c'è il rischio che diventi la peggiore di sempre in serie A nei principali campionati del continente nessuno ha abdigato così presto a giugno sarà rivoluzione ma prima bisogna evitare di battere il record negativo del treviso come leggiamo nella stagione 2005-2006 i Veneti chiusero il torneo all'ultimo posto con 21 punti il Pescara ora di punti ne ha 14 non sarà facile a questo punto fare meglio peraltro sempre ricordando che 3 di questi 14 punti sono arrivati a tavolino questo appunto nell'articolo curato da dal collega Giovanni Tonto Donati e poi ancora ciao Scarponi ultimo saluto al capitano oltre 5.000 persone a Filottrano al funerale del campionissimo scomparso sabato scorso e poi ancora il Balfo del Delfino sempre parlando di Pescara ora per favore non parliamo più di progetto nell'articolo curato da Antonio De Leonardis Lega Pro Caidi la salvezza diretta non dipenderà solo da noi il difensore dice mi auguro che domenica Modena-Mantova non finisca con un pareggio che farebbe comodo a entrambe ma in Italia lottiamo anche contro queste cose Serie D l'Aquila ora spunta anche un gruppo locale club in vendita comunicato del Supporters Trust dopo la proposta di Organtini servono garanzie e poi ancora per il calcio a 5 Abruzzo è già tempo di riscatto nella prima giornata del torneo delle regioni in corso in Puglia un pari e due sconfitte per le selezioni del comitato regionale oggi il debutto degli allievi per il calcio giovanile a Roseto brilla la stella della Bonolis al torneo Spiagge d'Abruzzo Cup premiate anche le semifinaliste avanti ancora con il tennis gli internazionali d'Abruzzo il colpo grosso di Donati eliminato Bolelli in 3 set un'altra sorpresa all'ATP Challenger di Franca Villa dopo il capo del favorito Elias spettacolo sugli spalti con 2500 spettatori sui tre campi in terra rossa poi per il ciclismo la Gran Fondo con gli teatini d'Ascenso mette tutti d'accordo a Tollo terzo successo stagionale per il portacolori della GC Melania secondo Tirabassi a Derrico la corsa breve di 90 km adesso andiamo sul messaggero Abruzzo ovviamente anche in questo caso si riparte dal Pescara un naufragio inevitabile ben 74 gol incassati in 33 partite una difesa Colabrodo con Oddo Zeman in panchina non è cambiato niente l'unico obiettivo è non retrocedere con l'ultimo posto Zeman ha le idee chiare per il futuro cambieremo molto un solo big da confermare Alberto Girardino se ne avrà voglia per il resto tutti sul mercato e a proposito di Girardino potrebbe riappegregarsi a Cagliari la prossima partita la prossima trasferta per il Pescara e poi c'è l'opinione di Pierpaolo Marchetti la Serie A è un'altra cosa sarebbe ora di capirlo e poi in basso Teramo chiarimento tra Fratangelo e Ugo Lotti Kaidi sospetta il biscotto su Dirol Mantova con un punto entrambe salve pensiamo ai play out e poi siamo al calcio di Serie D l'Aquila oggi assemblea dubbi sul gruppo romano ieri nessun contatto tra lo staff dirigenziale di Chiodi e le parti la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della gara con lo Sporting Trestina dal Lazio non arrivano buone notizie su Organtini ai tempi del Cecchina Casilina poi per il calcio a 5 Acqua e Sapone prepara i play out Ricci senza 4 pedine invece per sempre per il calcio a 5 Pescara inizio da definire Capuozzo carica la squadra per il basket sul fronte Roseto le parole del playmaker Robert Fulzi i play out del Roseto non mi stupiscono e invece la Progerchieti che cerca la salvezza progero una storia di spareggi dal 1971 Bartocci in panchina nell'ultima esperienza di 3 anni fa a Mantua per l'automobilismo Liuzzi in pista all'Estoril nel team Lamborghini noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con le 3 edizioni del nostro Tg alle ore 14 alle ore 19 alle ore 23 in regia ringrazio per la parte tecnica Claudio Di Giacomo ringrazio voi per la cortese attenzione vi auguro una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti